Ci aspettiamo di conoscere finalmente la data della morte di Liliana e di avere delle prove che è stata picchiata. Sono le parole di Silvia Aradin, la cugina di Liliana Resinovic, la pensionata di 63 anni scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata a cadavere in un bosco il 5 gennaio 2022. La morte dell'ex impiegata è ancora avvolta nel mistero. La procura aveva chiesto di archiviare il caso come suicidio, ma i familiari si sono opposti e hanno ottenuto nuove indagini tuttora in corso. Secondo i parenti, Liliana è stata assassinata. C'è una novità. Tra pochi giorni il suo cadavere verrà riesumato. Si tratta di un atto doloroso ma necessario per permettere agli esperti di fare una nuova autopsia. La data in cui verrà fatto l'esame è quella del 15 febbraio. Ci siamo quasi, manca davvero poco. A cercare di rispondere a tutte le domande che ruotano intorno a questo misterioso caso sarà un luminare della medicina legale, la dottoressa Cristina Cattaneo. Torniamo alla cugina Silvia. Ha dichiarato. Sogno sempre, Liliana, che mi dice, state tranquilli, capirete tutto. Il suo corpo parlerà, ne sono sicura. Le ho chiesto perdono per quello che le faranno, ma era necessario. Bisogna capire una volta per tutte. Gli esami eseguiti immediatamente dopo il ritrovamento del cadavere stabilirono che la donna non aveva assunto farmaci e godeva di buona salute. Il corpo presentava alcune lesioni, soprattutto al viso. Tuttavia, il primo medico legale che si occupò del caso, le catalogò come ferite da caduta. Cosa implicava questa definizione? Sostanzialmente che, secondo l'ipotesi avanzata, Liliana, dopo essersi recata nel bosco per suicidarsi, sarebbe inciampata in un arbusto, cadendo e ferendosi. Oppure, a causa della difficoltà del terreno e della scarsa visibilità, avrebbe urtato il viso contro un albero. Questa fu la teoria proposta dalla procura basandosi sui primi accertamenti medici. Per la famiglia, le lesioni non sembravano compatibili con un semplice incidente. Il fratello Sergio si è esposto pubblicamente, dichiarando che la povera Lilli sarebbe stata picchiata con violenza. Riguardo al suicidio, il giudice ha respinto categoricamente questa ipotesi. Nel giugno dello scorso anno, ha respinto la richiesta di archiviazione, ordinando nuove indagini e individuando 14 punti chiave su cui concentrarsi. Tra questi vi era anche la valutazione della possibilità di riesumare la salma. Il magistrato aveva infatti ordinato una nuova consulenza medico legale per descrivere e accertare le lesioni riscontrate sul cadavere di Liliana, la loro origine, il mezzo che le ha causate, la datazione e ogni altro elemento utile a qualificare il decesso come conseguenza di un suicidio o di un evento attribuibile a terzi. In particolare, si doveva stabilire se la ferita al naso era correlata alla frattura precedentemente descritta dai consulenti del pubblico ministero come probabile e vecchia. In pratica, si cercava di datare con precisione la frattura al naso riscontrata nella prima autopsia. Rimane un altro punto da chiarire. La questione riguarda la data del decesso di Liliana. Il primo medico legale stabilì che la pensionata era morta tra le 48 e le 60 ore prima del ritrovamento del suo cadavere nel bosco. Questa affermazione sollevò molte perplessità. Se fosse stata corretta, Liliana sarebbe deceduta il 2 o il 3 gennaio. Tuttavia, considerando che era scomparsa il 14 dicembre, ciò solleva l'interrogativo. Dov'è stata per quei 20 giorni? Non aveva con sé né soldi, né documenti, né cellulare e nessuno l'aveva vista in giro. È plausibile che si sia nascosta per settimane solo per raggiungere successivamente il bosco e compiere un suicidio, indossando gli stessi vestiti che aveva quando sparì. Questa ipotesi appare improbabile. Allo stesso modo, sembra difficile credere che Liliana sia stata uccisa il 14 dicembre 2021 e conservata in un luogo ghiacciato fino al 2-3 gennaio 2022, quando è stata poi trasportata nel bosco. Per verificare questa ipotesi, il giudice ha suggerito di procedere con la misurazione di un enzima mediante un prelievo dei muscoli, al fine di verificare la fondatezza dell'ipotesi di congelamento o raffreddamento del cadavere. Basta solo attendere il 15 febbraio.